Anche quando non ci vedete, non ci siamo. 10.000 persone in un'unica passione. Farvi viaggiare sicuri e liberi. Siamo Autostrade per l'Italia. Abbiamo inventato il Tutor, che salva centinaia di vitellarmo. E il Telepass, che vi fa guadagnare tempo. Apriamo nuove strade e creiamo lavoro. Per crescere, tutti. Autostrade per l'Italia. Una passione di muovere il paese.